I governi non ci stanno dicendo di qualcosa di gigantesco, qui vedete il sole, è chiaro che state vedendo il sole, lo vedete? Lo vedete? Vedete questo? Si dovrebbe vedere, lo vedete? Certo che lo vedete, lo vedete? Questa è Papa Francesco extraterrestre che potrebbe invadere la terra, vedete questo? Questo è il nostro sole, lo vedete che non c'è alcun sole, questo è perché hanno usato l'ARP, lo vedete? Questa è una prova incredibile, osservate, questo, gente, perché sto dicendo questo? Poi abbiamo questo, che cavolo è questo? Questo è molto questo, potrebbe essere una guerra aliena, invisibile, gente, e qui un politico brasiliano, questo è strano, gente, osservate, lo vedete? Questo forse potrebbe essere il motivo per cui i vulcani dell'Alaska si hanno usato le scie chimiche per fare una cosa molto misteriosa, ma questo contraddice totalmente la creazione dove si dice che la terra si tratta di un iPhone, questo succede perché sta succedendo questo e perché, bene gente, questo oggetto, questo oggetto, lo vedete, sapete che è attratto alla nostra gravità, se avessimo la gravità, giusto? Vedete questo? Potrebbe essere un messaggio da parte di John Lennon, Però quello che la maggior parte della gente non sa è che Suzuki era un massone, adesso voglio parlarvi della conversazione che ha avuto il Papa Francesco con la ISSSS, questo è quello che ha detto Cari astronauti, sto cercando di fare un trollaggio molto professionale Lo vedete? Certo che lo vedete Questo non è John Lennon, questo è il nostro sole Perché sto dicendo questo? Se ancora non lo siete, iscrivetevi al canale attraverso un tipo di tecnologia olografica Ora vi lascio con questo video, un video molto interessante, non dimenticate di iscrivervi attraverso un tipo di tecnologia olografica Lasciate il vostro mento, noi ci vedremo ancora Perché sto dicendo questo?